A questo punto cedo la parola al professor Andrea Nervi, individui, collettività e demani un altro modo di possedere per chi e per che cosa. Prego. Grazie signor Vicepresidente, buonasera. Non nascondo una certa emozione con il prendere la parola in questa occasione. Celebriamo un libro importante. Celebrare un libro significa celebrare un autore. Qui il discorso diventa ancora più complesso, visto che parliamo di uno studioso, come dire, di un prestigio per il quale è difficile trovare degli aggettivi adatti. Mi limito solo ad un dato di fatto. Se prendiamo il libro di Elinor Ostrom, Governing the Commons, quello che è leal sul premio Nobel, e al termine del libro c'è un lungo apparato bibliografico, c'è un lungo elenco di opere citate e c'è un solo autore italiano, che è appunto il professor Grossi. L'autore che oggi celebriamo è incidentalmente anche Presidente della Corte Costituzionale, in un momento, come dire, peraltro, diciamo un tantino complesso. Ecco, quindi, insomma, il compito di chi prende la parola in questa sede non è facilissimo. Partiamo dal libro. Il libro ha volutamente un titolo provocatorio, un titolo di rottura, un altro modo di possedere. È nota l'origine, è una citazione di un passaggio di Carlo Cattaneo, che era in visita in alcune zone della Svizzera e si trovò di fronte a queste realtà, per lui probabilmente nuove, e scrisse «Questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni, è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi». È già stato ricordato dal Vicepresidente Carosi, è stata ricordata l'occasione che ha dato origine al libro, c'era confessa l'autore nella sua prefazione, una conferenza tenuta a Mosca a metà degli anni Settanta. Quindi, se facciamo uno sforzo di fantasia, insomma, in un momento in cui il blocco sovietico era ancora solido, ecco, il professore italiano, quindi del blocco occidentale, vi si reca per parlare di proprietà, cioè proprio per il tema su cui, come dire, la contrapposizione ideologica era più forte. Per parlare, peraltro, non di proprietà in senso classico, su cui poi torneremo, ma di questa figura, chiamiamola così minore, negletta di proprietà, la proprietà collettiva. È stato detto dal Vicepresidente Carosi che il libro intercetta, precorre o intercetta, un movimento culturale di portata europea, correttissimo, mi permetto di aggiungere un pezzo, ma andrei anche oltre i confini dell'Europa. Adesso mi scuserete se cito un episodio personale, ma io, insomma, quest'estate ho compiuto un viaggio in Canada, per puro diletto e non per motivi di studio. E il viaggio ha toccato la città di Vancouver, città che ha 150 anni di storia, quindi, insomma, città giovane in cui non si trovano quelle attrazioni di carattere storico-artistico che sono parte del modo di visitare del turista europeo. Una cosa interessante è il Museo di Antropologia, che cerca di ricostruire le civiltà della costa del Pacifico precedenti alla colonizzazione britannica. Insomma, si capisce, e la guida ce lo sottolineò abbastanza, che ci fu un momento di forte contrapposizione a metà dell'Ottocento, ovviamente poi i nativi furono perdenti, e questa contrapposizione venne superata da una sorta di trattato di pace stipulato proprio nel 1976, quindi è contemporaneo al libro di cui oggi parliamo, e la premessa del trattato di pace è esposta in bella vista al museo. Ve la leggo in inglese, ma credo che siano concetti semplici. Si dice questo, Poi segue tutta la descrizione, e è interessante anche la conclusione. We announce our intent to establish control of our own communities and our own resources in order to control, determine and guarantee our future. This is our aboriginal right and a basic universal human right. Mi sembra un linguaggio, ho pensato, ho confesso, di aver pensato al professor Grossi quando ero in visita lì. Veniamo al libro, veniamo al libro, e il libro contiene, a mio modestissimo avviso, una lucidissima critica all'istituto della proprietà, così come lo si studia nei corsi di diritto privato tuttora. Si studia così, perché questo è il portato di tutto questo processo culturale che ha origine adesso per schematizzare in maniera molto rozza con la codificazione napoleonica del 1804 e attraversa tutto il XIX secolo. E con rispetto a questo processo, credo di averlo già detto qui in altra occasione, questo processo è un processo fortemente ideologico che ha, mira, ad un preciso obiettivo, fare della proprietà uno strumento giuridico per la costruzione del sistema di mercato. L'individuo borghese necessita di uno strumento con cui poter operare sul mercato con il quale far circolare le risorse. Qual è, adesso, per andare proprio al nocciolo del problema, qual è la critica che il professor Grossi rivolge in maniera, a mio modesto avviso, lucidissima a questo processo? Quello di dire che questo processo culturale ideologico ha frantumato il legame tra l'individuo e la collettività. La proprietà è stata costruita in forma spiccatamente, esclusivamente individuale, rompendo il legame con la collettività di riferimento, perché il legame con la collettività di riferimento portava con sé situazioni di doverosità, mentre la proprietà borghese, la proprietà ottocentesca, chiamiamola così, è fonte solo di diritti. L'articolo 832 del Codice Civile ci dice che il proprietario ha il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo. Poi ci sono i contemperamenti, ma, insomma, il punto era liberare l'individuo, se vogliamo così, dalle catene dei vincoli sociali e farne un soggetto in grado di operare da solo sul mercato. Ora, questo processo caratterizza tutt'ora, se tutt'ora si apre un manuale di diritto privato, qui ci sono professori ben più esperti di me, ma, insomma, tutt'ora questo è l'approccio che si trova nei manuali. Ci sono state delle voci, storicamente anche, delle voci critiche, una voce cara al professor Grossi è quella di Enrico Finzi, che nel 1923, per esempio, scriveva questo. L'individualismo assoluto, che fu forza vitale della rivoluzione contro il feudalesimo decrepito, era già superato nel momento in cui veniva posto alla base del nuovo diritto. Il diritto privato è per sua natura composizione e temperamento di due interessi diversi, individuale e sociale. esso non può segnare il trionfo di uno solo. Il professor Grossi del volume, come dire, ci aggiunge del suo, vi leggo delle frasi che si trovano. La società borghese è una società dalle spietate scelte individualistiche. Concorrenza senza limiti vuol dire prevalenza dei forti e dei ricchi contro i deboli e i poveri. al di sotto della qualificazione distaccata e quasi neutra che i giuristi offrono della proprietà si coglie un popolo in catene, il popolo dei non proprietari. Si tratta di un istituto, la proprietà, che riesce a vivere contando solo sulla forza del potere che lo esprime. La proprietà borghese è uno schema pensato e costruito al di sopra della storia. Queste sono frasi scritte pubblicate nel 1977. Leggerle oggi avendo di fronte quello che è successo dopo l'11 settembre il settembre 2008 con gli impiegati della banca d'affari americana che escono con gli scatoloni dai loro uffici leggere queste frasi avendo davanti questi episodi fa un certo effetto cioè voglio dire che la proprietà non solo è in crisi il concetto proprietario classico non solo è in crisi ma necessita evidentemente di un profondo ripensamento è un problema è fonte di diseguaglianze sociali è fonte di enormi problemi ambientali proprio per questa sua accentuazione marcata questa enfatizzazione così marcata del profilo individuale quindi così mi pare che la linea di pensiero che emerga anche da questo tavolo è quella di recuperare valorizzare ripensare la dimensione sociale della proprietà e qui probabilmente la nostra carta costituzionale offre più di uno spunto importante il famoso passaggio sulla funzione sociale che venne definito da Massimo Severo Giannini come una delle formulazioni più originali della Costituzione di ogni Costituzione quindi guardando all'universo al contesto internazionale ricordo che Giannini ebbe un ruolo di primo piano nei lavori della Costituzione e poi un altro passaggio importante già citato da chi mi ha preceduto all'articolo 43 della Costituzione la proprietà chiamiamola così collettiva di comunità di lavoratori ed utenti probabilmente una sorta di terza via ecco nel disegno della Costituzione tra proprietà pubblica e proprietà privata quindi ecco recuperare la dimensione sociale non significa come dire demolire e azzerare il profilo individuale questo non è eliminabile voglio dire adesso non c'è tempo qui per argomentare ma non è eliminabile nel discorso sulla proprietà però bisogna probabilmente contestualizzare il discorso sulla proprietà tenendo a mente il contesto sociale la collettività di riferimento in cui l'istituto e vorrei dire le gesta del proprietario vengono ad inserirsi è di nuovo il professor Grossi che ce lo ricorda quando scrive la proprietà è una situazione complessa che si scandisce nella perenne dialettica tra momento individuale e momento sociale e il momento sociale che è parte integrante della più riposta natura della proprietà ha la sua forma storica la sua manifestazione più tipica nella proprietà collettiva che è un'espressione proprietaria una specie di un genus più ampio allora se queste sono le premesse io voglio dire nella mia ingenuità come dire trovavo degli spunti interessanti nella legge sui domini collettivi il vicepresidente Carosi dall'alto della sua esperienza si è espresso in maniera un pochino diversa però a me hanno colpito due passaggi della legge intanto l'articolo 3 quando si dice il regime giuridico dei beni collettivi è quello della inalienabilità indivisibilità inusucapibilità e della perpetua destinazione agrosilvo pastolare qui abbiamo secondo me proprio la rottura rispetto al dogma proprietario classico qui è una situazione chiamiamola appropriativa ma concettualmente diversa proprio rispetto a quella tradizionale dei codici civili ecco e poi l'altro aspetto che a me personalmente pareva meritevole di apprezzamento era il riconoscimento già evocato dal professore Iannarelli dei domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie capace di autonormazione dotato di personalità giuridica di diritto privato cioè mi pareva così sommessamente apprezzabile questa chiara scelta di campo per la prospettiva privatistica che emerge all'interno della legge sui domini collettivi forse adesso non vorrei peccare di ingenuo ottimismo ma insomma forse si può pensare ai domini collettivi come ad una sorta di laboratorio sperimentale per verificare nuovi assetti proprietari percorrendo la prospettiva del diritto privato e come già avevamo discusso in altre occasioni per l'utilizzo dello strumento del contratto come strumento di governo o di autogoverno di queste collettività ecco credo che la sfida se la legge troverà puntuale attuazione credo che la sfida sarà quella di riuscire ad individuare nel settore del diritto privato gli adeguati strumenti giuridici per soddisfare le esigenze per dare riscontro agli interessi delle collettività di riferimento e a mio avviso la sfida copre due profili uno quello che io chiamerei l'aspetto organizzativo o auto-organizzativo cioè lo statuto in buona sostanza le regole di auto-organizzazione che la collettività si dovrà dare per regolare se stessa e per regolare la sua interazione con i terzi e poi lo strumento contrattuale attraverso il quale la gestione delle risorse dovrà essere governata sia nella collettività di riferimento sia di nuovo per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo da parte dei terzi ecco quindi a me pare che insomma come dire il legislatore italiano spesso bistrattato poi qui insomma davanti alla corte costituzionale in schierata nei suoi vertici però questa volta abbia come dire compiuto un lavoro tutto sommato apprezzabile ecco se questa è la prospettiva mi permetto di segnalare quello che così tra virgolette chiamerei un potenziale nemico di questo sviluppo di questa linea di sviluppo e che è adesso lo dico in maniera un po' provocatoria che è il diritto chiamiamolo europeo unionale che a mio avviso teoricamente non dovrebbe occuparsi di proprietà perché una norma del trattato dice che come dire l'unione europea è indifferente rispetto ai regimi proprietari in realtà di proprietà si occupa e se ne occupa e come ma se ne occupa con una prospettiva che è ancora quel che è chiaramente o vetero o neoliberale a seconda dei punti di vista ma è chiaramente orientata al puro profilo patrimoniale ci sarebbero molti riferimenti ma mi limito a citarne uno molti dei presenti conoscono le sentenze della Cassazione sulle valli da pesca quelle in cui la Cassazione come dire ha riconosciuto con toni anche molto come dire enfatici la dimensione personale degli assetti proprietari personale collettivistica i riferimenti alle collettività e fin qui tutto bene la Cassazione in questo modo ha confermato le sentenze di merito che avevano respinto le pretese di una società privata all'appropriazione all'utilizzo delle valli da pesca bene giudizio definitivo dello Stato italiano però forse non tutti sanno la coda di questa vicenda perché la coda è che la società privata è andata alla Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo lamentando che dolendosi del fatto che a suo avviso lo Stato italiano le aveva inferto un pregiudizio patrimoniale e la Corte Europea dei diritti dell'uomo le ha dato ragione dicendo questo il paragrafo 78 della sentenza la Corte considera che lo Stato non abbia mantenuto un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati in gioco e che la ricorrente cioè la società privata abbia dovuto sopportare un carico eccessivo e sproporzionato pertanto vi è stata violazione dell'articolo 1 del protocollo numero 1 e quindi alla società ricorrente italiana è stato riconosciuto un risarcimento pecuniario quindi adesso fermo il rispetto dovuto alle decisioni dell'autorità giudiziaria siamo in una situazione in cui l'affermazione di un principio costituzionale quello della Corte di Cassazione è passata attraverso un risarcimento pecuniario punto poi ognuno fa le valutazioni che crede c'è un'ultimissima cosa che volevo dire e che credo sia un omaggio dovuto al maestro che qui onoriamo ed è la lezione sul metodo il libro qui celebrato contiene anche per tutti i giuristi teorici e pratici a mio modesto avviso contiene una fondamentale lezione sul metodo di lavoro e secondo me la lezione è condensata nel modo in cui il professor Grossi presenta un giurista inglese Maine verso il quale direi non nasconde la sua simpatia e gli lo definisce con queste parole un giurista che vive con occhi ben aperti e con orecchi ben tesi ecco a me pare che in questo ci sia un messaggio importantissimo il professor Grossi ricorda che il giurista è colui il vero giurista è colui che parte dal basso cioè che parte dalle situazioni di fatto che vede come ha detto in altre occasioni la realtà di sotto in su e partendo dal dato di fatto costruisce la teoria questo è il giurista scienziato poi c'è un'altra variante del giurista verso la quale però mi pare la sua simpatia sia molto meno come dire accentuata che è il giurista che fa calare dall'alto la sua teoria trascurando la realtà di fatto questo giurista corre un fortissimo rischio quello di diventare l'ideologo o peggio ancora il cantore del potere costituito e quindi certamente perde ogni profilo di scientificità quindi grazie al professor Grossi e grazie a voi per l'attenzione la buona discendenza non mente pregevole relazione che mi chiama in causa che mi chiama in causa anche per le critiche più che le critiche direi gli avvertimenti d'uso rispetto alla nuova legge si diceva è importante che sia codificata l'autodeterminazione e la destinazione agrosilvopastorale sì ma riferita ai domini collettivi allo stato della giurisprudenza è quasi giuridicamente tautologica perché tutto ciò non è messo in dubbio da nessuno io ricordo quando negli anni settanta quando appunto col presidente Postiglione ci occupavamo di queste intersezioni era già stato fissato che le associazioni agrarie potessero fare dei regolamenti limitativi dell'accesso alle proprietà per esempio per la raccolta dei tartufi dei funghi e quant'altro e c'era appunto un potere regolamentare che fosse privato o fosse pubblico comunque era vincolante anche nei confronti di chi veniva al di fuori il vero problema mi chiedo e per gli usi civici in senso stretto non è quasi una limitazione questa affermazione perché per gli usi civici intesi quelli ancora da liquidare praticamente non c'è la stessa attenzione e quindi potrebbe accadere che attraverso la riapertura di quelle procedure che purtroppo in molte regioni hanno portato anche al compimento di illeciti ci sono state delle regioni adesso è antipatico fare i nomi che hanno azzerato i ruoli dei periti demaniali e insomma ecco pensiamoci perché tutto questo poi può avere una ricaduta ma un'altra cosa perché giustamente ecco è importante questo richiamo all'Europa ma se io entro in un regime di diritto privato attraverso la personalità privata che dovrebbe servire a una maggiore flessibilità gestionale come ci mettiamo con il credito e le garanzie del credito anche qui corsi e ricorsi storici nell'università agraria di Vasanello del Viterbese praticamente l'intero territorio era gravato da uso civico i principi colonna fallirono i terreni andarono in garanzia se ne impadronì la banca d'Italia e li trasformò in bandite ci furono sommosse popolari perché allora il problema della terra non era solo andare la domenica a funghi ma c'erano delle utilità e alla fine fu fatta una transazione antecedente alle norme sugli usi civici quindi tra la legge Crispi del 1894 all'inizio del novecento un roggito davanti al notaglio il territorio del paese fu diviso in due parti metà all'odiale e metà divenne dominio collettivo e poi a sua volta per metà quotizzato e per metà convocazione silvopastorale quindi ecco insomma sono corsi e ricorsi storici oggi stiamo attenti a definire il regime di diritto privato perché poi la giurisprudenza fa presto a fare due più due e c'è da dire che la stessa Cassazione nei tempi più recenti è diventata molto meno ancorata al parametro tradizionale e spesso abbiamo visto riconosciuto la espropriabilità e quant'altro quindi ecco stiamo stiamo attenti e sull'Unione Europea e meglio ancora sulla Corte dei diritti dell'uomo la prima cosa che io ho pensato vedendo la giurisprudenza sulla proprietà della Corte di Strasburgo dico certo non è passata è passato di tempo dal terribile diritto di di Rodotà alla alla Corte di Strasburgo e pensavo ma una via di mezzo non esiste tra l'altro io non voglio per carità denigrare la qualità culturale di questi pronunciamenti ma se uno vede l'estrazione dai giudici la loro cultura la loro tecnica giuridica vede sicuramente una eterogeneità fortissima con quella dei paesi presso i quali opera la Convenzione e poi con tutto il rispetto proprio richiamava giustamente nervi il problema delle sovrastrutture concettuali ma io mi chiedo a un certo punto come si fa ad equiparare una sentenza ad un principio di diritto ad un enunciato di secondo livello in che misura una sentenza interagisce con i metavalori della nostra Costituzione questo vale per la Corte di Giustizia ma vale ancora di più per la Corte di Strasburgo noi diciamo che è norma interposta ma poi come avete visto da tutta una serie di pronunce in materia penale della Corte Costituzionale si comincia a dire in quanto norma interposta non entra nel nostro ordinamento perché non riguarda esattamente lo stesso caso che equivale a dire in forma più gentile che una sentenza non può incidere con un metavalore che spesso non è nemmeno codificato in uno specifico articolo della Costituzione ma vive attraverso l'interrelazione e il bilanciamento di alcuni valori all'interno della Costituzione è un problema questo ma è un problema che probabilmente andrà risolto a livello costituzionale andrà in qualche modo risolto perché è evidente che se questi organismi cominciassero ad avere un aspetto oltremodo invasivo si scontrerebbero con la filosofia delle cose penso ad esempio alla Corte di Giustizia che quando viene in Italia per bocca del Presidente dimostra un'assoluta sicurezza di essere il giudice nomofilattico delle corti costituzionali ma poi non riesce a fare nulla di fronte a dei paesi nuovi entrati che vanno a violare principi molto più basilari dell'Unione Europea quindi questo purtroppo è giustamente un rischio ma dobbiamo cercare di risolverlo anche con i mezzi del pensiero e della scienza e quindi sono effettivamente cose che devono far riflettere io vorrei spargere una vena di ottimismo proprio con la legislazione europea in materia ambientale perché molte volte in materia di concorrenza noi abbiamo visto che anche nella materia della concorrenza che si rifà in ambito europeo bisogna dirlo ha una concezione fortemente vetero liberale insomma dietro certi enunciati ci sta la mano di Dio di Adam Smith non c'è niente da fare è una cosa strana perché oggi gli stessi monetaristi e gli stessi portatori del pensiero liberare parlano di necessità di una correzione dell'intervento pubblico è l'epoca del dumping sociale ci sono tante variabili diciamo nella concorrenza così intesa però bisogna riconoscere che in tutte le direttive di tutela della concorrenza mi viene adesso in mente il regolamento che riguarda i servizi di trasporto c'è sempre scritto che se lo Stato membro dichiara e accerta che c'è una situazione in cui non è possibile creare un'aspettativa di mercato ben può dettare una disciplina particolare lo Stato italiano di questa norma ne fa pochissimo uso ed invece io penso ai territori montani proprio alle piccole comunità alle situazioni dove il mercato non solo non esiste ma non può esistere per le dimensioni territoriali sociali e demografiche ecco probabilmente bisognerebbe cercare di battere la strada della specialità rispetto alle regole di un mercato completamente aperto detto questo passerei subito la parola al professor Monteduro singoli collettivi ho saltato qualcuno no? ah no 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 scusate la comunicazione del professor Pennasilico do a lui la parola e mi scuso col professore per averlo saltato ringrazio anzitutto il professor Pietro Nervi per l'invito che mi dà la possibilità di toccare con mano la realtà del centro studi e di dare un piccolo contributo alle onoranze al caro professor Paolo Grossi il mio intervento intende affrontare il mio intervento intitolato proprietà ambientale e contratto ecologico un altro modo di soddisfare i bisogni e intende affrontare questo problema se oggi per il giurista sia ancora sufficiente l'approccio classico ai temi strettamente legati della proprietà e del contratto o se al contrario sia necessaria una revisione o riconcettualizzazione delle due categorie giuridiche fondamentali la risposta al quesito sarà data non soltanto nell'acquisita consapevolezza della storicità e relatività delle categorie quanto piuttosto alla luce della incidenza sulle medesime categorie dell'interesse ambientale in questa prospettiva il banco di prova della categoria dominicale già frammentata come è noto in una pluralità di statuti proprietari è il concetto ordinante di terra intesa come punto di incidenza di aspirazioni collettive al fine di un più elevato benessere la terra come valore in sé bene comune non economico da conservare e da trasmettere alle generazioni venture concezione non è questa che induce finalmente a porsi il problema se il diritto di proprietà possa configurarsi anche come diritto non patrimoniale paradigmatiche in questo senso sono appunto le risalenti forme di cosiddetta proprietà collettiva nelle quali ancora oggi come testimonia la nuova legge in tema di domini collettivi la terra è il luogo di manifestazione dei valori sociali ambientali e paesaggistici delle comunità di riferimento percepite come ininterrotte catene generazionali queste le parole di Grossi tanto da reputarsi imprecisa equivoca o insidiosa la qualificazione di proprietà per queste fattispecie atipiche se commisurate all'individualismo esclusivismo del classico modello proprietario è dunque preferibile il sintagma assetti fondiari collettivi che enfatizza a quali tratti fisioneomici il fenomeno organizzativo di una collettività impegnata su una certa terra e la prevalenza per i membri del gruppo delle situazioni soggettive di dovere su quelle di potere ed è proprio la concezione della terra come valore ideale bene non patrimoniale destinato in quanto tale alla conservazione ad ispirare la elaborazione di una nuova categoria la proprietà ambientale lo strumentario concettuale utile a inquadrare il fenomeno nel nostro sistema ordinamentale potrebbe trarsi dal trust dalla proprietà fiduciaria dagli articoli 2645 ter equater del codice civile strumenti questi nei quali il bene è vincolato all'interesse altrui sicché la terra in quanto bene comune è astretta all'interesse dunque al godimento della collettività e delle generazioni future se la terra non è apprezzabile esclusivamente dalla prospettiva economica la situazione soggettiva del proprietario non può più essere ricondotta alle classiche facoltà di godimento di disposizione la facoltà di godimento proprio perché ha per oggetto un bene rilevante sul piano ideale si esercita su questo stesso piano il godimento della terra finisce per essere come è stato osservato contemplazione sicché la facoltà di godimento per essere esercitata esige che il bene sia conservato il potere di disposizione a sua volta non può che essere strumentale al medesimo godimento identificandosi con il potere di gestire il bene per la sua conservazione con una conseguenza fondamentale la proprietà si libera del concetto tradizionale di rendita che non è più l'utile economico individuale il risultato dello sfruttamento del bene ma diventa patrimonio comune che rende rilevante l'interesse collettivo al godimento ideale del bene la decostruzione e ricostruzione del tradizionale paradigma proprietario compiuta dalla teorica della proprietà ambientale non giunge a capovolgere completamente la concezione occidentale antropocentrica per considerare la natura come accade ad esempio negli ordinamenti dei paesi andini soggetto di diritto ben si guarda al bene terra come cosa produttiva che nelle parole di Grossi vive in perfetta simbiosi con l'uomo il passo in avanti è decisivo verso un diverso modo di percepire e attuare il rapporto soggetto oggetto alternativo al paradigma tipico dell'individualismo possessivo non v'è dubbio infatti che scrive Grossi all'antropocentrismo borghese si contrappone un marcato reicentrismo e un altrettanto deciso comunitarismo negli assetti collettivi la cosa la cosa madre la terra è realtà vivente e vitale che assorge a valore autonomo in quanto res fruggifera ecco perché negli assetti collettivi al primato della terra sul soggetto si aggiunge il primato della comunità sul singolo ecco perché alla sostanziale o meglio ecco perché alla spasmodica esigenza borghese della circolazione del bene qui osserva Grossi si oppone una sostanziale indisponibilità confermata anche adesso dalla nuova legge ecco perché nella proprietà ambientale la terra è oggetto non già di dominio e sfruttamento ma di buon governo in questa logica che potrei definire di depatrimonializzazione della proprietà si capovolge la soluzione di uno dei problemi centrali dell'istituto proprietario il contenuto del diritto non si tratta più di definirne il contenuto minimo ossia di chiarire i limiti entro i quali il legislatore potrebbe incidere sul diritto dominicale potenzialmente limitato si tratta qui invece di definirne è stato detto il contenuto massimo ossia di stabilire i confini oltre i quali non può più configurarsi un diritto di proprietà occorre acquisire consapevolezza cioè che il diritto di proprietà non è potenzialmente illimitato che determinati poteri se non funzionalizzati all'interesse sociale e ambientale della collettività sono di per sé oltre la proprietà il contenuto massimo del diritto non comprende non può comprendere il potere di incidere sulla vita della terra e delle persone sul paesaggio sulla bellezza della terra questo mutamento di paradigma significa che oltre la proprietà il possesso e in genere le situazioni soggettive legate alla terra esiste il bene comune che non può essere sottratto all'accesso e al godimento da parte della collettività perché soddisfa esigenze costituzionalmente protette il diritto di proprietà finisce laddove inizia il bene comune il tema dei beni comuni solleva dunque una serie di problemi nuovi rispetto alla tradizionale sistemazione dei beni e delle situazioni di apparenenza imponendo una revisione concettuale della consueta impostazione proprietaria fondata sulla natura individuale ed esclusiva delle situazioni soggettive riconosciute al titolare l'evoluzione storica del diritto di proprietà ha consentito fin dal codice napoleonico di forgiare questo diritto in termini strettamente funzionali alle dinamiche dello scambio e dunque ai meccanismi di mercato al punto da trovare una naturale corrispondenza nella parallela evoluzione della categoria contrattuale a sua volta incentrata sui fenomeni dello scambio della circolazione dei diritti tuttavia l'attenzione riservata al momento circolatorio ha lasciato in ombra l'altro profilo essenziale del diritto di proprietà ossia il godimento e la gestione dei beni laddove il tema dei beni comuni e della proprietà ambientale riporta all'attenzione proprio questa problematica giacché questi beni esigono di essere gestiti e utilizzati in conformità alle esigenze sociali e ambientali di una collettività emerge qui l'importanza del ruolo del contratto e qui faccio mia la indicazione di Andrea Nervi inteso come strumento preordinato a regolare non tanto un conflitto di interessi antagonisti quanto piuttosto il concorso di una pluralità di interessi convergenti alludo a una nuova declinazione dei fenomeni contrattuali che valorizza l'incidenza sulla categoria contrattuale dell'interesse ambientale ossia dell'uso razionale e responsabile delle risorse naturali in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile pensiamo ai cosiddetti appalti verdi volte a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella materia contrattuale e non soltanto in quella pubblica dove ormai sono obbligatorie l'introduzione di criteri ambientali minimi ma anche in quella del diritto privato e allora occorre chiedersi se siano maturi i tempi per accreditare un nuovo paradigma contrattuale il contratto ecologico che sembra avere in comune con i contratti dei consumatori e con i contratti tra imprenditori la asimmetria informativa e la conseguente necessità di riequilibrare posizioni negoziali dispari tuttavia è necessario non fermarsi alla possibile ma riduttiva rappresentazione del contratto ecologico come contratto dei consumatori attenti a selezionare prodotti ecosostenibili e dunque bisognosi di protezione dalla pratica scorretta sempre più diffusa tra i produttori di usare dichiarazioni ambientali mistificatorie il cosiddetto greenwashing ma in realtà se siamo stati abituati a vedere nel consumatore la parte debole del rapporto nella contrattazione ecologicamente conformata invece il consumatore è spesso la parte attiva che promuove e difende un mercato più equo corretto e responsabile emblematica al riguardo è l'esperienza del commercio cosiddetto equo e solidale definito come un approccio alternativo al commercio convenzionale che promuove giustizia sociale relazioni paritarie al fine di garantire la qualità dell'ambiente il benessere di produttori e consumatori e la solidarietà reciproca in realtà il contratto ecologico si differenzia dai consueti schemi dei contratti dei consumatori e dei contratti tra imprese perché l'interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto enfatizzando tanto la convergenza degli interessi dei contraenti all'utilità ambientale quanto la doverosità dell'uso responsabile delle risorse naturali a favore anche delle generazioni future al punto che il paradigma del contratto ecologico potrebbe atteggiarsi come contratto a protezione di terzi indeterminati l'analisi ecologica del diritto contrattuale seppure appena bozzata in questa sede consente di cogliere da un lato che la funzione del contratto si evolve dalla tradizionale funzione di scambio circolazione di beni individuali a quella di godimento e gestione condivisa di beni comuni e dall'altro che la nozione stessa di contratto è insufficiente se non integrata dai principi di solidarietà sostenibilità e sussidiarietà nell'uso responsabile delle risorse naturali sicché il contratto oggi è fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali ma di rapporti giuridici patrimoniali sostenibili il nesso tra patrimonialità e sostenibilità testimonia la coesistenza nella regola contrattuale di interessi patrimoniali e interessi non patrimoniali coesistenza che nel contratto ecologico non è meramente eventuale ma è necessaria e indissolubile del resto il codice dell'ambiente stabilisce che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali è un principio di azione che vincola l'attività dei soggetti pubblici e privati e che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale l'interesse ambientale può dunque considerarsi oggi un vincolo intrinseco all'attività di operatori pubblici e privati un limite interno all'autonomia negoziale eloquente al riguardo l'orientamento della corte di cassazione in materia di immissioni i giudici di legittimità hanno chiarito che la disciplina contenuta nell'articolo 844 del codice civile parole testuali nel prevedere la valutazione da parte del giudice del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà deve essere interpretata tenendo conto che il limite della tutela della salute dell'ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall'articolo 844 dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto a una normale qualità della vita in conclusione credo che il contratto ecologico possa considerarsi un nuovo paradigma contrattuale che valorizza il concorso di una pluralità di interessi convergenti e segna il percorso verso un differente approccio alla economia e ai consumi il contratto ecologico è uno strumento elettivo nella costruzione di un'altra economia un'economia circolare equa solidale un altro modo di soddisfare i bisogni che da un lato induce a ripensare l'individualismo proprietario e la correlata funzione di mero scambio del contratto dall'altro mette in discussione l'essenza stessa della categoria contrattuale intesa per tradizione come strumento produttivo di effetti di tipo appropriativo se è vero che il contratto ecologico non è ancora una categoria normativa pienamente o propriamente inquadrata dal legislatore non di meno credo corretto configurare questo schema contrattuale come una categoria euristica in grado di cogliere e favorire nuovi sviluppi interpretativi applicativi tali da segnare nel tempo un autentico mutamento di paradigma a ben guardare se la proprietà si relativizza declinandosi in una pluralità di statuti proprietari e si legittima socialmente anche come proprietà ambientale il contratto non può che porsi a sua volta come contratto ecologico nessun civilista nel nostro tempo potrebbe studiare in modo completo e aderente alla realtà la disciplina dei contratti ignorando quei problemi di tutela dell'ambiente per troppo tempo relegati alle sole figure delle immissioni del danno ambientale la teoria e la stessa nozione del contratto non possono più essere costruite prescindendo dal modo nel quale il singolo peculiare contratto incide sull'ambiente questo è il nodo cruciale del diritto contrattuale oggi vi ringrazio ebbe molte chiose questo intervento che in realtà è stata una relazione anche molto interessante ma io non voglio sottrarre ulteriore tempo semmai alla fine cercherò di cucire un po' quello che abbiamo inteso negli ultimi interventi e quindi darei subito la parola al professor Massimo Montedoro che ci parla di singoli collettività ed ecosistemi un altro modo di appartenere grazie grazie dell'invito che mi onora davvero e mi carica anche di un grande senso di responsabilità però è soverchiato dal piacere di essere qui soprattutto dal piacere di aver ascoltato le introduzioni e le relazioni che mi hanno preceduto e devo dire che cercando anche di rubare il meno tempo possibile data l'ora cercherò di sintetizzare anche la relazione ma molto di quello che avevo pensato di dire è stato anticipato questo mi fa felice perché mi consente di concentrarmi sull'essenza di quello che vorrei provare a dire il mio punto di osservazione dell'opera del professor Grossi è particolare perché è il punto di vista di uno studioso del diritto amministrativo scusatemi per la voce è in particolare del diritto dell'ambiente da questo punto di vista e per quella che è la mia giovane esperienza di studio di questa disciplina una prospettiva necessaria per il giurista oggi per chi intende studiare l'ambiente oggi è quella di mettere in relazione le conoscenze le categorie i saperi giuridici quindi diritto con quello che sta fuori dal diritto e in particolare con le scienze ambientali e dal mio punto di vista in particolare con l'ecologia discutere di diritto dell'ambiente oggi senza alfabetizzarsi ecologicamente come è stato detto di recente da Mattei e da Capra in un libro che si chiama Ecologia del diritto è molto difficile e quindi il mio punto di osservazione nella lettura del libro del professor Grossi è particolare in questo senso cioè io ho ritrovato nella rilettura del libro del professore del 77 e della sua ristampa delle precursioni dal mio punto di vista assolutamente sorprendenti di qualcosa che per l'epoca e parlo soprattutto della consapevolezza ecologica nel senso proprio del termine delle categorie giuridiche era inedita in Italia nel 77 il diritto dell'ambiente stesso era in fasce Giannini negava in quel periodo la stessa possibilità di costruire una nozione giuridica unitaria di ambiente sebbene il libro del 77 non utilizzi il termine ecologia ecosistema ma come proverò a dimostrare l'intero libro è assolutamente compatibile con il linguaggio con le categorie con diciamo così il modo l'approccio all'analisi del fenomeno ambientale tipico dell'ecologia per provare a dimostrare questa tesi che secondo me testimonia la straordinaria modernità di questo libro e anche se posso aggiungere il suo carattere non rassicurante questo è un libro che ovviamente viene celebrato come è doveroso che sia ma è un libro che non dà certezze è un libro che dà inquietudine dal mio punto di vista perché destabilizza categorie fa riflettere su quanto sia l'abile il confine tra ciò che appare certo e ciò che non lo è riflettendo sulla proprietà a spalanca degli abissi e quindi questa inquietudine secondo me preziosa in un'epoca come quella attuale l'epoca della crisi ecologica conclamata molto più che nel 77 un'epoca che sfida il giurista ad abbandonare vecchie categorie ma soprattutto a costruirne di nuove cosa che con difficoltà si fa allora la mia relazione a questo punto sintetizzata si articolerà su due pilastri il primo una lettura diciamo così peculiare dall'angolo di osservazione che vi ho esposto del libro del professor Grossi e delle idee fondamentali che veicola e la seconda il confronto di queste idee con le categorie concettuali dell'ecologia per verificare come ci possa essere questo dialogo questo incontro se alla fine della relazione questo dialogo sarà risultato possibile un vantaggio fondamentale sarebbe questo che anche chi non è giurista chi non è addetto ai lavori può trovare nell'opera del professor Grossi la possibilità di intercettare il dibattito giuridico diritto e scienza potrebbero dialogare su basi molto più consapevoli e reciprocamente informate quello che oggi accade è che il diritto è autoreferenziale spesso anche la scienza lo è e quindi non si riesce a trovare la capacità di ordinare fenomeni con regole cogenti proprio perché non c'è questa comunicazione tra mondi vado rapidamente a diciamo la mia lettura del libro del professor Grossi da questo punto di vista io rileggendo il libro del professor Grossi ho immaginato una metafora che può sembrare inconsueta ma secondo me rende molto bene almeno alcune strutture che percorrono il libro del professore la metafora del ponte tibetano il ponte tibetano come ben sapete ha una struttura elementare fatto fondamentalmente da tre corde c'è una corda che funge da pavimento da basamento e ci sono due corde laterali che servono per mantenere l'equilibrio attraverso il ponte tibetano costruitosi dall'antichità si riescono a collegare vette molto lontane spazi separati da vissi entrano in collegamento il ponte tibetano ha questa struttura triangolare e secondo me anche il libro del professor Grossi che è un ponte è un ponte lanciato tra discipline giustamente il nostro incontro si intitola intersezioni tra discipline diverse tra discipline giuridiche ma anche come vi dicevo tra discipline giuridiche non giuridiche e soprattutto tra diverse esperienze giuridiche nel senso di capograssi esperienze di spazio e di luogo il libro del professor Grossi è un ponte ed ha una struttura triangolare anch'esso perché si fonda su un lemma assetti fondiari collettivi che secondo me merita di essere attentamente analizzato pezzo per pezzo la prima corda quella che funge da pavimento del ponte tibetano è assetti se si leggono le pagine del libro del professor Grossi in cui si definisce il concetto di assetto lo si trova associato a queste parole fenomeno vitale creature viventi intreccio organico generatore di vita situazione complessa non riducibile a un rango meramente patrimoniale ma caratterizzata da un inscindibile rapporto simbiotico osmosi continua tra mondo delle persone e mondo delle cose vita insomma vita di uomini e di cose in perfetta simbiosi in altri termini al cuore della parola assetti c'è il concetto di vita vita che viene colta nel libro nella sua dimensione temporale di coesistenza e di coevoluzione lungo linee generazionali sono sempre parole del professor Grossi tra uomini e cose in cui sia uomini che cose entrambi i termini generano vita la nascita e quindi le generazioni ma anche la vita naturale e i frutti vite che si alimentano reciprocamente e che quindi cosa sono gli assetti in questa visione gli assetti sono modelli giuridici emersi sedimentatisi e perdurati soprattutto nel tempo che hanno dimostrato storicamente quindi hanno superato il test dell'esperienza storica di essere in grado di rendere compatibili tra loro tre scale vitali la scala individuale la scala sociale e la scala ecologica queste tre scale di vita sono state rese compatibili da questi modelli che nel tempo hanno dimostrato di renderle compatibili se la prima fune diciamo quella che funge dal basamento del ponte è la parola assetti la fune laterale la prima fune laterale di appoggio che consente di percorrere il ponte è la parola fondiari l'aggettivo fondiari fondiari richiama a quella dimensione che veniva ricordata al professor Pennasilico che è la dimensione della cosa produttiva quello che potremmo chiamare l'oggetto che però vedremo il professor Grossi intende in modo molto particolare la cosa produttiva è la res frugifera come è stato detto è la cosa madre che con la sua fertilità e la terra garantisce la sopravvivenza e anche qui le parole che usa il professor Grossi per definire la cosa quindi questa fune l'istanza del fattuale la dimensione del fattuale sono parole scolpite la cosa non è relegabile tra i fenomeni brutti ma è in realtà vivente e vitale munita di una vita propria e fonte di vita per le formiche umane che la coltivano qui non cito il libro del 77 cito opere successive ma il pensiero del professor Grossi si è evoluto unitariamente la cosa non è realtà passiva non è realtà amorfa non è realtà anonima non è superficie liscia neutra quindi la cosa in questa visione è un ruolo protagonistico perché è legata alla cosa la sopravvivenza delle comunità la cosa è la terra quindi la cosa non deve essere violentata ma deve essere rispettata come si rispetta una creatura vivente sono sempre parole del professor Grossi e deve essere conservata intatta ma non in modo museale cioè senza poter essere toccata ma intatta nella sua funzione vitale nella sua carica vitale cioè la capacità generativa della cosa che deve essere preservata non l'aspetto fenomenico della cosa non è che la cosa diventa una realtà intoccabile è il nucleo vitale che deve essere preservato tant'è che da questa visione della cosa della cosa produttiva deriva la centralità dei doveri rispetto ai poteri ma soprattutto c'è una frase dell'opera del professor Grossi che vorrei citare su questo si dice questa visione impone al proprietario di leggere osservare e rispettare le regole primordiali insite all'interno delle strutture della cosa quali sono le regole primordiali che stanno dentro la cosa che i proprietari collettivi devono leggere osservare e rispettare per utilizzare i termini ecologici che vedremo dopo sono i flussi i cicli i limiti ecologici che precedono il diritto e che sono interni a quello che chiamiamo oggetto non sono giuridicamente negoziabili vanno riconosciuti tanto che lo stesso professor Grossi in opere più recenti fa esplicitamente riferimento a una dimensione ecologica da tenere in conto per una valutazione obiettiva di questa realtà c'è poi la seconda fune laterale che completa il triangolo assetti fondiari collettivi è il secondo primato non solo il primato della cosa la prima fune laterale ma il primato della comunità qui c'è il comunitarismo a cui si accennava qui c'è la dimensione del collettivo che però ecco questo è un punto che vorrei sottolineare nel libro e in generale nell'opera del professor Grossi la dimensione collettiva viene messa a fuoco in una maniera particolare secondo me fondamentalmente diversa ad alcune letture che si danno diciamo nell'odierna temperia culturale cioè il professor Grossi dice attenzione le comunità non possono non essere locali forse nemmeno regionali cito sempre testualmente ma minutamente locali e sono comunità da rispettare nella loro specificità consuetudinaria nella loro specifica intima struttura consuetudinaria e aggiunge dall'altro lato il professor Grossi non si tratta di una somma di individui ma di una comunanza di costumi di storia di valori spirituali morali sociali ambientali valori che non sono stati imposti ma sono frutto di germinazioni spontanee che l'uso immemorabile ha consolidato munendole di una notevole durezza rispetto al divenire incessante della storia quotidiana cioè qual è il punto che vorrei qui sottolineare emerge da questa visione della comunità questa seconda funelaterale l'idea di spazi piccoli in tempi grandi cioè gli assetti fondiari collettivi di cui parliamo sono sempre localizzati perché riguardano certe situazioni di clima di temperatura di terreno di umidità di fertilità certe specifiche realtà dotate come puoi utilizzare i termini ecologici di caratteristiche ecologiche irripetibili uniche su questi spazi piccoli delle comunità hanno vissuto per decenni centinaia di anni e osservandole ripetutamente per una serie temporale diacronicamente lunga le hanno conosciute davvero perché la conoscenza di un ecosistema torno a usare termini ecologici è molto difficile da acquisire nel breve periodo è molto difficile da acquisire nella scala individuale che dura decine di anni l'ecosistema invece ha cicli che durano da centinaia a migliaia di anni solo le comunità che trasmettono e conservano non soltanto il bene ma la sapienza il patrimonio sapienziale che si collega al bene per generazioni riescono ad acquisire nel tempo una conoscenza profonda dei meccanismi ecosistemici che altrimenti al singolo proprietario assolutamente sfugge e questo è un aspetto da sottolineare perché il dibattito che c'è sui cosiddetti commons globali i beni comuni globali secondo me rischia di perdere questa dimensione locale che invece è fondamentale il bene globale è un bene ad altissimo raggio spaziale ma a bassissima diciamo prospettiva temporale non esistono comunità globali che nel tempo nei decenni nei millenni trasmettono saperi quindi il bene globale il common globale secondo me rischia di essere un equivoco o comunque potrebbe tradire in parte puntare sull'idea di beni comuni globali lo spirito del messaggio che viene fuori dall'opera del professor grossi faccio un esempio le foreste non esistono le foreste globali esistono le foreste tropicali le foreste boreali la macchia mediterranea sono realtà assolutamente diverse come volute si con comunità completamente diverse questo vuol dire che non si possono comparare assolutamente no si possono comparare ma l'idea di normalizzare e quindi di come posso dire despazializzare questa realtà è assolutamente rischiosa e il libro ammonisce molto da questo punto di vista ora se noi abbiamo in mente questa struttura triangolare quindi assetti fondiari collettivi modelli ordinativi giuridici sedimentatisi primato della cosa primato della comunità ci rendiamo conto di un fatto ed è qui che è utile la metafora del ponte nel ponte tibetano solo la tensione delle funi consente di attraversare il ponte riducendo l'oscillazione voi sapete benissimo che i ponti di corda oscillano ma se si tirano troppo le funi e soprattutto se si tira più una fune dell'altra il ponte si spezza quindi non è pensabile l'idea di attraversare un ponte tibetano senza oscillare chi immagini poterlo attraversare con arrogante sicurezza come se fosse un ponte di cemento si sbaglia si oscilla anche pericolosamente e si rischia di cadere ma non si può risolvere il problema esasperando l'uno o l'altra delle componenti cioè il recentrismo il comunitarismo o l'idea della modellazione giuridica perché esasperando o caricando troppo una delle componenti si perde l'equilibrio il concetto unitario di assetto fondario collettivo questo per quanto riguarda l'analisi naturalmente ripeto eterodossa quindi il professore mi scuserà dei concetti chiave che io leggevo a mio modo nel libro vediamo come questi concetti corrispondono se corrispondono ai paradigmi dell'ecologia una scienza non giuridica fondamentale però da conoscere fondamentale da diciamo mettere in relazione col diritto come altre volte mi è capitato di dire per un giurista questo può apparire strano ma chi studia ecologia lo assume come un concetto di base in ecologia la vita che è il concetto base non è mai su un'unica scala la vita si distribuisce sempre su scale diverse quindi in ecologia esistono diversi livelli di aggregazione della vita si tratta sempre di vita distribuita a vari livelli e cosa ancora più interessante in ecologia si parla esplicitamente di gerarchia dei livelli di aggregazione della vita qual è questa gerarchia? molto banalmente c'è un primo livello di aggregazione che è la cellula sistemi di cellule a un secondo livello di aggregazione formano i tessuti sistemi di tessuti formano organi sistemi di organi formano apparati sistemi di apparati formano gli organismi e questi sono gli individui come noi li conosciamo compreso l'uomo individui sistemi di individui della stessa specie compongono le popolazioni sistemi di popolazioni di specie diverse compongono le comunità o biocenosi le comunità che interogiscono con dei luoghi fisici chiamati biotopi configurano gli ecosistemi sistemi di ecosistemi configurano i paesaggi sistemi di paesaggi configurano i biomi sistemi di biomi configurano la biosfera cioè il pianeta Terra ogni livello che abbiamo menzionato è un livello di aggregazione della vita c'è vita in ogni livello si tratta di sistemi viventi la cellula è un sistema vivente come la biosfera ma questa aggregazione è gerarchica perché è gerarchica? perché il livello di aggregazione superiore condiziona l'esistenza e la sopravvivenza del livello di aggregazione inferiore se collassa un ecosistema collassano inevitabilmente le popolazioni le comunità che ne fanno parte questo approccio ecologico può sembrare scontato ma ripeto per un giurista non lo è porta a un rovesciamento radicale degli schemi giuridici puri postulati dalla teoria della proprietà perché nella teoria della proprietà ma diciamo nei concetti base del diritto noi siamo abituati intanto a dividere nettamente tra soggetti attivi e oggetti passivi nel rapporto giuridico c'è il soggetto e l'oggetto come si diceva prima il soggetto dispone dell'esistenza dell'oggetto nell'an nel quid nel quando e nel comodo può anche distruggerlo in astratto l'oggetto indubbiamente appartiene al soggetto se invece ne assumiamo il paradigma ecologico ci troviamo di fronte a una realtà rovesciata perché intanto non c'è nessun soggetto attivo o passivo non c'è un soggetto e non c'è un oggetto ci sono sistemi di vita diversi che sono interdipendenti a livelli diversi su scale diverse i sistemi viventi di livello inferiore cioè gli individui per esempio non possono disporre sicuramente dell'esistenza dei sistemi viventi di grado superiore per esempio degli ecosistemi ma il contrario e soprattutto il rapporto di appartenenza viene rovesciato perché non è la risorsa naturale ad appartenere all'individuo ma semmai è il sistema vivente di grado inferiore ad appartenere al sistema vivente di grado superiore è l'individuo che appartiene all'ecosistema non il contrario nell'ottica ecologica ma soprattutto sempre assumendo l'ottica ecologica come paradigma di confronto in quanto è distante dalle categorie che usiamo come giuristi l'appartenenza ecologica ha un duplice significato essere parte ma anche essere partecipe essere parte di un sistema di livello superiore significa beneficiare degli input positivi in termini di materia ed energia per esempio per un individuo che fa parte di un ecosistema significa beneficiare dei servizi ecosistemici la depurazione delle acque oppure la fotosintesi clorofiliana la produzione di ossigeno sono servizi che il sistema di grado superiore offre agli individui ma appartenere quindi partecipare in positivo significa anche assumere e subire i limiti invalicabili insuperabili del sistema di livello superiore limiti invalicabili perché qualsiasi sistema ecologico ha dei punti di rottura sono le cosiddette soglie di residenza superate le quali il sistema ecologico tracolla e proprio la biodiversità tra l'altro è uno dei componenti che consente di non raggiungere di non arrivare a punti di rottura le soglie di residenza quindi far parte di un sistema ecologico significa anche accettare dei limiti di espansione che quindi sono assolutamente incompatibili con l'idea di una crescita di una dilatazione illimitata di una componente a scapito di tutte le altre e ripeto se il sistema collassa per dilatazione eccessiva dell'espansione di una componente collassano tutte le componenti compresa la componente diciamo così egemone o apparentemente tale ancora la scienza ecologica offre dei concetti che secondo me sono vicinissimi ai concetti che troviamo nell'opera del professor Grossi cito due il concetto di conoscenza ecologica tradizionale traditional ecological knowledge e il concetto di memoria socio-ecologica socio-ecological memory questi due concetti sono utilizzati dalle scienze ecologiche per stabilire diciamo il livello di resilienza maggiori sono la conoscenza ecologica tradizionale la memoria socio-ecologica maggiore è la residenza di un sistema in cosa consistono questi concetti consistono nel patrimonio sapienziale posseduto dalle comunità locali le comunità locali che hanno osservato per lungo tempo piccoli spazi piccoli ecosistemi conoscono i meccanismi profondi di funzionamento di quegli ecosistemi sono depositarie di queste conoscenze conoscenze che sono essenziali perché questi ecosistemi sopravvivono nel tempo questa seconda parte della relazione sono a 20 minuti ma davvero sto per concludere e rende secondo me ragione del fatto che c'è una profonda sintonia una profonda assonanza tra i concetti espressi nell'opera del professor Grossi quindi da un grande giurista e concetti elaborati in tutt'altro dominio il dominio della scienza ambientale e dell'ecologia che però possono parlarsi e parlarsi ripeto è fondamentale per fronteggiare le sfide di oggi tornando alla metafora del ponte il ponte in alta quota il ponte tibetano collega vette di alta quota l'alta quota significa che bisogna elevarsi rispetto alle contingenze quindi avere capacità di grande osservazione del concreto ma anche capacità di cogliere dall'osservazione del concreto quelle che potremmo chiamare diciamo i tratti identificativi connotanti ora la metafora del ponte mi consente anche di chiudere facendo riferimento a due rischi possibili cioè quando si attraversano diciamo punti difficili in altura bisogna resistere al rischio alla tentazione di facili scorciatoi e spesso bisogna invece affrontare sentieri impervi ci sono scorciatoie seducenti che però rischiano di portare nel barato una di queste scorciatoie è proprio l'enfatizzazione eccessiva della componente comunitaria rispetto alla componente reale del fenomeno assetti fondiari collettivi cioè l'idea che bene comune significhi massimizzazione della soddisfazione degli interessi della collettività senza avere riguardo a quelli che abbiamo visto prima a essere limiti ecologici invalicabili delle cose è vero che le comunità conoscono quelle cose le rispettano però le due cose vanno sempre insidibilmente insieme ci sono alcune teorizzazioni dei beni comuni che invece puntano esclusivamente sull'aspetto del diritto fondamentale dell'accesso semplicemente evitando l'idea dell'esclusione di alcuni rispetto ad altri ma bisogna ricordarsi che come diceva il professor Pernasidico c'è il contenuto massimo di questa massimizzazione che è dato dalle regole primordiali insite nella struttura della cosa e cioè i limiti ecologici dall'altro lato l'altro rischio l'altro scorciatoio è quella che veniva evocata ancora dal professor Pernasidico quella della entificazione della cosa l'enfatizzazione della componente reicentrica come si sta facendo in alcune esperienze giuridiche in paesi andini ma anche in Nuova Zelanda l'idea di erigere e di diciamo di trasformare fittiziamente ovviamente gli ecosistemi in persone giuridiche i fiumi i laghi attribuiti lo standing processuale quindi avremo il fiume X che agisce in giudizio contro lo stato Y queste sono ficzioni che sono legittime ma nascondono un dato l'ecosistema non ha una voce l'ecosistema è qualcosa che come si dice si contempla e è contemplato sempre da occhi umani quindi identificare giuridicamente un ecosistema significa sostanzialmente falsificarne la sua reale natura e quindi torniamo alla metafora iniziale assetti fondiari collettivi peraltro un'espressione che raggruppa in sé concetti diversi come i domini collettivi e gli osicifici in questo difficile equilibrio c'è tutta la pericolosità dell'operazione culturale che si deve portare avanti perché il libro è qualcosa è un testimone passato alle future generazioni cioè non elaborazione dottrinale solo ma progetto culturale per il futuro il problema è se saremo in grado di valorizzare davvero la ricchezza culturale di quello che ci ha insegnato il professor Grossi mi scuso e vi ringrazio nessuna scusa anzi complimenti e solo non posso non sottolineare la conclusione che è la componente dello sfruttamento collettivo dell'utilizzazione se diciamo sfruttamento abbiamo già espresso il concetto l'utilizzazione collettiva non possa trasmodare che era proprio il pericolo che io vedo in una in una malintesa interpretazione della privatizzazione della diciamo di questi della rappresentanza di certi assetti collettivi perché poi è una rappresentanza non è la titolarità domenicale ecco ci sarebbe un'eterogenesi molto grave e quindi grazie al professor Monteduro perché con molta lucidità poi nei miei confronti ho accolto il lato debole perché le metafore biologiche sono le mie cose preferite quindi non potevo che rimanere entusiasta detto questo passo la parola alla professoressa Maria Assunta in Brenda per una comunicazione perché poi dobbiamo ascoltare anche la prassi che è rappresentata dal commissario agli usi civici grazie ringrazio il professor Nervi per avermi dato l'occasione di partecipare a questa riunione prestigiosissima e onorare in questo modo il maestro Paolo Grossi il mio tema è sull'agricoltura urbana l'ultimo quarantennio ha registrato su scala mondiale una crescente diffusione di orti e giardini all'interno degli insediamenti urbani le ragioni sono in parte economiche in parte si legano ad una pervasiva sfiducia nei confronti degli attuali meccanismi di produzione del cibo e ad un nuovo modo di pensare il modello di sviluppo in parte ancora ad un inusitato desiderio di appropriazione e uso dello spazio urbano da parte di individui e comunità dal punto di vista storico la sedentarizzazione delle popolazioni e con essa l'aumento demografico e la costituzione dei primi nuclei urbani si intreccia con il perfezionamento delle pratiche agricole tanto che da sempre all'interno o nelle vicinanze delle città sussistono appezzamenti adibiti alla coltivazione di ortaggi e frutta o all'allevamento di piccoli animali gli orti insediati all'interno dei grandi complessi conventuali si pensi all'abbazia benedettina di Assisi o annessi ai palazzi nobiliari costituiscono del resto una testimonianza emblematica di agricoltura urbana nel corso del tempo si sono via via affermate forme di conduzione agricola degli spazi urbani funzionali alla sussistenza degli strati bisognosi della popolazione paradigmatica è la pratica affermatasi in alcune città dei paesi bassi nella seconda metà del XIV secolo dei cosiddetti coel garden letteralmente giardini di cavoli ossia piccoli lotti destinati all'autoconsumo concessi in affitto dalle autorità locali pratica alla quale ha fatto seguito la variegata esperienza dell'allotment movement che fin dal XIX secolo ha interessato gran parte dell'Europa e del Nord America e quella non meno significativa dei jardin ouvrier francesi basate sulla assegnazione di piccoli appezzamenti individuali da parte di istituzioni locali enti ecclesiastici istituzioni di beneficenza ma anche altri soggetti non istituzionali come proprietari di industrie o associazioni di lavoratori si pensi agli orti industriali realizzati all'interno delle company town in favore di categorie svantaggiate poveri disoccupati ex detenuti operai e così via e ancora una volta la funzione di sostentamento a venire in considerazione nella più recente esperienza dei cosiddetti orti di guerra sulla scorta delle campagne propagandistiche lanciate dai governi campagne che peraltro ammantano la pratica agricola di una forte connotazione ideologica qualsiasi spazio libero a prescindere da formali meccanismi concessori viene adibito a coltivazioni da singoli o gruppi guardando alle esperienze pregresse nella consapevolezza che il passato secondo l'autorevole insegnamento di Paolo Grossi è un deposito complesso dove ci sono strati che è vitale di seppellire perché parlano un linguaggio vivo e consentono di discriminare il caduco dal perenne l'attuale tendenza dopo un periodo di forte contrazione indotta dallo sviluppo industriale si appalesa dunque come il nuovo corso di un fenomeno del tutto consolidato e tuttora connesso a finalità di riscatto da condizioni soggettive di marginalità economica o sociale fenomeno che vale a rimarcare il rapporto tra urbano e rurale non in termini di contrapposizione o subalternità quanto alla stregua di un continuum all'interno del quale si delineano nuove ecologie tra territorio e società il tema che involge da un lato la valenza ambientale dell'agricoltura dall'altro il ruolo proattivo della società civile e l'emersione di innovative interazioni tra società e agricoltura e per mezzo di quest'ultima fra società e istituzioni costituisce una lente privilegiata di osservazione di quello che Grossi definisce un diverso modo di percepire e realizzare il rapporto soggetto cosa produttiva alternativo cioè al paradigma di appartenenza della proprietà individuale la riflessione avverte il maestro va ben oltre il problema proprietà e investe tutto l'assetto socio-giuridico egli osserva come la proprietà individuale pilastro portante dell'assetto ottocentesco fosse lo specchio di una società rigidamente monista perché rigidamente elitaria e individualista esatorata cioè di qualsiasi società intermedia è composta di due sole entità lo stato persona e il soggetto fisico accanto a questo paradigma va a collocarsi un diverso modello che di là dall'essere rimasto assolutamente minoritario e appartato nel corso dei secoli risulta essere in realtà radicato in un costume plurisecolare tale modello riflesso di quella concezione della giuridicità come propugnata da Grossi che nasce dal mondo dei fatti pone all'attenzione dell'interprete il profilo della fruizione o per meglio dire gestione collettiva del bene verso il quale la giurisprudenza di legittimità e costituzionale ha manifestato significative aperture anche sulla scorta della legislazione speciale orientata nel senso di definire innanzitutto i criteri di utilizzazione dei beni e la disciplina delle acque è un esempio formidabile e mi permetto di dire anche della impostazione dei giudici di Strasburgo nel senso di uno spostamento dell'asse dall'aspetto dominicale del diritto all'interesse sotteso al bene interesse che in un ordinamento unitario e circolare non può che colorarsi in chiave personalista e solidaristica perdendo dunque quella connotazione mercantile che è propria dell'ambiente europeo la distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata si colora dunque di nuove sfumature laddove un bene diviene comune d'obbligo al riguardo richiamare la sentenza più volte evocata delle sezioni unite del 2011 ma anche le pronunce della consulta del 2003 e del 2006 in tema di demanio dove si chiarisce che la titolarità dei poteri decisionali sui beni pubblici non è espressione di modelli proprietari ma di modelli organizzativi dell'amministrazione e che occorre in concreto bilanciare l'interesse dello Stato proprietario e gli interessi delle collettività locali fruitrici dei beni la riflessione sui beni comuni o per meglio dire ad uso comune destinati alla fruizione collettiva di là dal titolo proprietario trova conforto e sviluppo nelle norme di recente introduzione in materia di domini collettivi anche a me sembra opportuno sottolineare il riconoscimento di questi domini come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie del quale viene posta in risalto la capacità di autonormazione e di gestione presupposto e garanzia di una serie di obiettivi valoriali tra loro interdipendenti ed evocati all'articolo 2 dove si fa espresso riferimento a vita e sviluppo delle collettività locali patrimonio naturale nazionale sistema ambientale strutture ecopaesistiche risorse rinnovabili nell'attuale contesto proprio di una società pluralistica all'interno della quale le comunità intermedie ricevono grande risalto in quanto luoghi naturali di svolgimento della personalità umana la inadeguatezza dello schema proprietario tradizionale rispetto alle molteplici istanze inerenti al personalismo e al solidarismo costituzionale che invece trovano componimento nella dimensione sociale e relazionale della proprietà quale relazione cioè tra la situazione del proprietario e le situazioni che mano a mano entrano in conflitto con questa e costituiscono centri di interesse antagonisti si disvela con particolare riferimento agli spazi urbani esposti in ragione della loro collocazione alla significativa pressione di una molteplicità di interessi estranea alla sfera del proprietario e suscettibili di esplicarsi anche in forma associata la città è infatti luogo di interazione e recita l'articolo 1 della carta europea dei diritti dell'uomo nelle città del 2000 spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti i quali hanno diritto di trovarvi le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista politico sociale e ambientale assumendo al contempo i loro doveri di solidarietà l'azione delle autorità comunali deve pertanto tendere al rispetto della dignità di tutti e alla qualità della vita degli abitanti specifica considerazione assumono al riguardo gli spazi aperti lotti vuoti situati nelle aree di frangia o interclusi nella città consolidata aree marginali e degradate che formano cosiddette porzioni di terzo paesaggio i quali lungo la direttrice del riuso o più propriamente della rigenerazione urbana vengono sempre più frequentemente trasformati in orti o giardini comunitari ad opera delle pubbliche amministrazioni o più spesso in virtù del vivace e crescente attivismo dal basso dei privati cittadini plastica testimonianza di quel ribollio del sottosuolo di cui discorre efficacemente Paolo Grossi che trova formale eco nel principio di sussidiarietà la funzione sociale nella sua declinazione ecologica determina il regime di tali beni che finiscono per rivestire un peculiare valore simbolico orto discende dal latino oriri e va inteso come luogo dove il cibo cresce dalla terra con una continuità che nessun altro spazio concede e legittima un controllo sull'uso che degli stessi faccia il pubblico potere o il privato a prescindere dunque dall'appartenenza pubblica o privata le aree che in quanto dotate di particolare utilità sociale rientrano nei cosiddetti beni ad uso comune o a destinazione pubblica possono così essere assegnate in concessione d'uso dall'ente comunale ai privati a fronte del pagamento di un canone annuale o gratuitamente la selezione avviene in genere secondo criteri di welfare garantendo cioè l'accesso prioritario alle categorie cosiddette deboli come pensionati disoccupati famiglie a basso reddito e così via l'autoconsumo personale e familiare dei prodotti ottenuti costituisce una forma di sostegno indiretto al reddito che rimarca la tradizionale funzione di sostentamento svolta dall'agricoltura urbana la gestione degli spazi è rimessa all'autonoma determinazione degli assegnatari e la conduzione dell'attività avviene sulla base di un disciplinare di produzione e gestione concordato con l'ente concedente recanti ad esempio indicazioni circa il metodo di coltivazione o il carattere non professionale dell'attività i privati variamente organizzati in fondazioni associazioni no profit comitati aggregazioni spontanee possono altresì rendersi promotori di interventi di valorizzazione autonomamente o in risposta ad una consultazione avviata ancora una volta dall'ente comunale in caso di accoglimento della proposta comune privati sottoscrivono un patto di collaborazione finalizzato in chiave tendenzialmente paritetica all'amministrazione condivisa in termini di scelte di responsabilità degli spazi urbani in questione la rigenerazione come definita nel patto imprime a questa tipologia di beni un vincolo conformativo che è di tipo consensuale e non più autoritativo volto alla realizzazione di un interesse diretto in capo ad una collettività più o meno estesa sempre nella prospettiva della negoziazione opera anche il nuovo codice degli appalti che prevede la possibilità di affidare in convenzione a consorsi di comprensorio costituiti dai cittadini la manutenzione delle aree riservate al verde pubblico urbano e richiama altresì l'applicabilità delle disposizioni in materia di valorizzazione e incremento delle aree verdi urbane attraverso contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro l'iniziativa privata può anche strinsecarsi al di fuori di un rapporto dialogico con l'amministrazione e questa l'ipotesi dei cosiddetti orti di via Chiodi di Milano vero e proprio unicum nel panorama nazionale che ha fra l'altro galvanizzato l'attenzione degli urbanisti ovvero di un'area privata destinata a verde cittadino che il proprietario ha adibito a coltivazioni orticole per poi concedere in affitto i diversi lotti in cui la stessa è stata suddivisa questo meccanismo ispirato ai jardin familio europei tanto da essere entrata informalmente nella relativa rete dà luogo a quella che viene definita una comunità contrattuale che nella logica della sussidiarietà orizzontale soddisfa anche in via riflessa un interesse collettivo se si pensa ai benefici indotti dalla pratica agricola in ambito urbano quantomeno in tema di tutela della biodiversità la funzione ecologica colora gli strumenti di autonomia nei quali si traduce questo tipo di esperienza aprendo a prospettive non scontate circa l'avantaggiosità economica del puro e semplice mantenimento di un lotto urbano non edificabile legate a quella cultura urbanistica incentrata sulle potenzialità dello just edificandi in questa direzione potrebbero sovvenire detrazioni fiscali per la creazione e riqualificazione delle aree destinate a verde sulla falsariga di quanto previsto nella legge di bilancio 2018 che ben si attaglia al fenomeno del co-housing nel solco di analoghe esperienze europee penso ad esempio a quella tedesca la collaborazione tra pubblico e privato potrebbe spingersi anche nel favorire il ricorso a istituti giuridici vecchi come superficie o infiteusi per fare in modo che i privati possano acquisire in gestione a basso costo queste aree e adibirle a coltivazioni orticole o giardinicole questa progressiva regolamentazione dell'attività avviata intorno agli anni 2000 con la previsione all'interno dei regolamenti comunali in materia di verde degli orti urbani ha di sicuro ridimensionato il fenomeno del giardinaggio critico ispirato al noto movimento culturale e latomente politico diffuso su scala mondiale e consistente nella vera e propria occupazione di aree occupazione che non può come atto di denuncia non avere come interlocutore il soggetto pubblico sollecitato a formulare una risposta in merito o a mediare quanto alleare in proprietà privata attraverso misure conformative e non necessariamente ablatorie o espropriative ai sensi dell'articolo 838 del codice civile come ci suggerisce Andrea Nervi a mediare il dialogo tra il proprietario e i portatori delle altre istanze l'aspetto innovativo dell'agricoltura urbana risiede non semplicemente nel fare agricoltura in città quanto soprattutto nei benefici socioambientali dei quali è investita l'agricoltura nella sua attuale accezione valoriale che ben si concilia con la finalità del pieno sviluppo della persona umana e della partecipazione del singolo alla vita della comunità indicate nel regolamento pilota del comune di Bologna in materia di rigenerazione urbana da questo specifico angolo visuale il fenomeno emblematico della progressiva definizione degli assetti urbanistici sotto forma di negoziazione tra istituzioni proprietari movimenti cittadini gruppi di potere informali i quali decidono di restituire agli abitanti spazi verdi fruibili attraverso forme di pianificazione urbana partecipata la tendenza la quale segna il passaggio da uno sviluppo della città ad un riutilizzo e recupero della stessa è sintomatico del più generale processo di modificazione dei bisogni sociali e della emersione nel quadro del principio di sussidiarietà di nuovi criteri di organizzazione dei servizi incentrati sulle relazioni di prossimità e sull'autogoverno delle comunità nella gestione di beni a fruizione collettiva che per il loro valore ideale sono ben oltre il valore della solidarietà patrimonio comune un riferimento normativo importante si riviene ancora una volta nella citata carta europea dei diritti dell'uomo nelle città che sancisce il diritto dei cittadini ad un ambiente sano ad una urbanistica armoniosa a disporre del tempo libero la città come risorsa di un nuovo spazio politico e sociale impone si legge nel preambolo della citata carta europea di riconoscere nuovi diritti rispetto dell'ambiente garanzia di un cibo sano tranquillità possibilità di scambi e di svaghi istanze queste che trovano per l'appunto una possibile risposta nella pratica dell'agricoltura urbana il pensiero di Paolo Grossi ancora una volta illuminante per cogliere nelle attuali manifestazioni di questo fenomeno se fosse una piccola intrusione dobbiamo dare la parola anche all'ultimo relatore quindi se può concludere sintetizzo solo un minuto e chiudo sono in chiusura coglie nelle attuali manifestazioni di questo fenomeno una diversa visione del rapporto uomo-terra propria delle prassi agraria e silvopastorale pervicacemente difeso dalle popolazioni rustiche dove la terra è natura ed è sede di vita anzi è vita essa stessa questa è una citazione di Capograssi analogamente agli assetti organizzativi collettivi comunanze partecipanze incentrati sulla sopravvivenza di una comunità organizzata che si proietta alle generazioni future l'agricoltura urbana rende compiutamente l'idea della conservazione ambientale la quale assume un carattere dinamico nel senso che i beni per essere conservati devono essere gestiti e si collega che all'interesse che tutti hanno al godimento del bene o secondo una diversa impostazione alla gestione ambientale in questo senso soccorrono anche le regole etiche fissate da Italia Nostra nel protocollo sugli orti urbani siglato con l'Anci dove per l'appunto si fa riferimento ai principi di economia etica al servizio della comunità sotto forma di agricoltura non standardizzata e speculativa accorciamento della filiera contenimento dei prezzi di vendita come presupposto per recuperare un rapporto diretto con la terra e al tempo stesso migliore garanzia per evitare un ulteriore consumo del territorio e alienazione delle popolazioni vi ringrazio e scusatemi se mi sono dilungata Soressa dopo aver volato così alto anche nell'augurio che questa creatività giuridica appunto venga tradotta poi in pratica in genere il 1322 serviva per il processo inverso del codice civile ma è molto interessante che si cerchino di stimolare le comunità territoriali anche a gestire delle situazioni che però sono legate molto alla cultura dei territori e alla cultura civica io darei torniamo diciamo alla pratica e alla incidenza dei problemi nella vita reale della tutela e della individuazione dei patrimoni collettivi e quindi diamo la parola al commissario agli usi civici Michele Cuccaro che ci parlerà del ruolo del libro fondiario nell'individuazione dei domini collettivi prego molte grazie salto i ringraziamenti e i saluti perché oramai siamo arrivati abbastanza tardi e io porterò principalmente la mia esperienza come giudice tavolare prima ancora che come commissario giudici civici visto che combino questi due ruoli allora sappiamo tutti che in Italia sono presenti due sistemi di attuazione della pubblicità immobiliare su ambiti territoriali diversi questo discende da una scelta che fece il legislatore nel 1928 al lato di disporre l'unificazione legislativa con riferimento ai territori annessi con la vittoria della prima guerra mondiale e la opzione che fece all'epoca fu quella del mantenimento nei territori delle cosiddette nuove province dei registri immobiliari che derivavano appunto dal stema dell'impero osburgico le ragioni della scelta del legislatore dell'epoca furono dettate principalmente da tre ragioni allora la prima era che si trattava di un sistema pubblicitario profondamente radicato nella popolazione e nell'economia dei luoghi e molto apprezzato e quindi non vi era ragione di sfarsene la seconda fu l'esempio dato dal legislatore francese che è chiamato pochi anni prima nel 1924 a effettuare un'analoga attività di unificazione con riferimento ai territori dell'Alsazia e della Lorena appunto conquistati dalla Germania optò per la cancellazione totale di tutto il sistema privatistico in vigore tranne per l'appunto i registri immobiliari che furono mantenuti in Alsazia e Lorena unico residuo del precedente sistema tedesco il terzo motivo fu quello che all'epoca si pensava di esportare il sistema pubblicitario di tipo germanico a tutto il territorio nazionale cosa che risulta sia da vari commissioni di studio dell'epoca sia soprattutto dalla scelta la testimonianza che possiamo trarre è della scelta che fece il legislatore all'atto dell'impianto dell'ordinamento fondiario nei nuovi possedimenti coloniali nel 1909 in Eritrea nel 21 in Libia nel 25 a Rodi e nelle altre isole del Dove de Caneso sappiamo tutti poi che in concreto questo ampliamento del sistema germanico quindi l'esportazione del sistema germanico al resto del territorio non ebbe seguito e non se ne fece nulla principalmente perché mancava un sistema di verifica del territorio un sistema catastale approfondito quale è quello che invece era presente in queste aree in estrema sintesi le caratteristiche salienti del sistema tavolare in comparazione col sistema di trascrizione sono che è un sistema su base reale anziché su base personale su questo tornerò dopo perché è un aspetto rilevante i fini che qui interessano la seconda che è un sistema di registrazione di diritti e non di atti quindi non si limita a registrare l'atto senza segnalarne l'attuale validità ma specifica anche quali sono gli effetti che da questi atti derivano e questo all'esito di un approfondito e accurato controllo di legalità terzo punto è un sistema di registrazione a base costitutiva e non semplicemente dichiarativa in contrasto appunto col sistema della trascrizione quarto punto non è solo un sistema pubblicitario ma è un sistema attributivo della pubblica fede anche su questo cercherò di dire sommariamente due cose allora le caratteristiche paradosso in cui tutti i sistemi pubblicitari si trovano è quella di combinare da un lato la tutela della sicurezza statica del proprietario dall'altro favorire la circolazione giuridica dei beni perché sappiamo tutti che se abbiamo un bene ma non lo possiamo commercializzare questo bene vale gran poco allora per favorire al massimo la sicurezza dei traffici il modello germanico che all'interno dei vari modelli europei è sicuramente quello più schiacciato nel garantire la sicurezza dei traffici adotta un sistema di netta separazione tra il cosiddetto titulus e il cosiddetto modus adquirendi nel senso che abbiamo un negozio fondamentale di natura obbligatoria che può essere la vendita la permuta la donazione e quant'altro che ha natura solo obbligatoria ma l'iscrizione è invece basata non già su un negozio obbligatorio ma su un negozio astratto la cosiddetta offlassum questo ha quale vantaggio che se ci sono vizi nel negozio fondamentale obbligatorio questi vizi non si riflettono sulla iscrizione e quindi chi acquista acquista bene ed è questo il motivo per cui nel sistema tedesco si usa dire das Buch hat im Recht nel senso che tutto ciò che c'è nel libro esiste e quello che c'è nel libro non esiste per arrivare a questo risultato è necessario un approfondito controllo di legalità perché altrimenti si finirebbe col creare una lesione inaccettabile nei confronti del titolare del bene è quello che abbiamo detto prima a proposito della sicurezza statica e quindi il BGB pur mantenendo pur dando all'iscrizione un valore di presunzione iuristantum quindi superando l'esperienza di alcuni stati prima della codificazione imperiale nello stesso tempo si preoccupa di garantire l'esattezza del contenuto del libro attraverso questo rigido controllo di legalità che il controllo di legalità questi fini sia essenziale è assolutamente evidente e già nel 24 un importante giurista come Nicola Coviello evidenziava come il principio della pubblica fede è utilissimo qualora si fondi sul principio della legalità ma ove fosse accolto senza di questo condurrebbe a perniciose conseguenze l'interesse dei terzi sarebbe tutelato e sacrificato invece quello dei legittimi proprietari degli incapaci eccetera meritevoli anch'essi di uguale protezione in tempi più recenti la tematica della perte del diritto da parte del precedente proprietario è stato approfondito dalla dottrina principalmente quella tedesca anche sotto profilo costituzionale la quale ha ravvisato la giustificazione costituzionale della perte del diritto in capito al precedente titolare senza indennizzo perché questo è il tema proprio nella funzione sociale della proprietà e nel fatto che l'accurato controllo di legalità consente di ridurre a fatti specie ben rare l'ipotesi in cui ci sia questa dissociazione di cui abbiamo parlato prima il modello tedesco si distingue tanto dal modello francese in cui come sappiamo non vi è una distinzione tra il titulus e il modus ad quirendi ma anche dal modello austriaco e la fondamentale differenza tra il modello tedesco e quello austriaco sta nel fatto che mentre nel modello tedesco abbiamo questa strattezza dell'auflassum su cui appoggia l'iscrizione nel sistema austriaco anche questo secondo contratto reale ha natura causale e non solo e non astratta come nel modello tedesco il modello tavolare italiano è costruito ovviamente derivando come abbiamo visto prima sul modello austriaco e però presenta un'ulteriore distinzione perché essendo maggiormente come ha spiegato benissimo il professor Mengoni che è uno dei massimi studiosi come sapete tutti del sistema tavolare perché il principio consensualistico si è compenetrato maggiormente nel sistema italiano e quindi chi dispone già può ottenere l'iscrizione senza avere necessità di un atto di consenso del venditore come invece tuttora necessario nel sistema austriaco resta però fermo e qui sta il principio costitutivo che il valore costitutivo dell'iscrizione che il semplice contratto non è sufficiente all'interno del sistema tavolare italiano se non c'è l'iscrizione tutto questo che ho riassunto vale per gli atti intervivos non vale invece per gli atti che siano mortis causa e non vale per gli acquisti a titolo originario però prima ancora di passare a questo mi preme sottolineare come la garanzia che viene attribuita data ai terzi nel sistema tavolare è molto maggiore rispetto al sistema della trascrizione attraverso un meccanismo peculiare quello di comprimere la possibilità di svogere le azioni di nullità le azioni di annullamento le azioni di riduzione e quant'altro nei confronti dei terzi che acquistano sulla fede del libro fondiario mentre nel sistema mentre nei confronti del primo acquirente operano le stesse regole proprie del codice civile italiano quindi prescrività delle azioni di nullità cinque anni sappiamo tutti quanto nel sistema tavolare italiano queste azioni possono essere effettuate possono essere fatte nei confronti dei terzi sono entro limiti ristrettissimi 60 giorni nel caso normale in cui ci sia la notifica del decreto tavolare nei confronti del predisessore tavolare oppure tre anni nelle ipotesi abbastanza remota in cui non vi sia stata questa notifica del decreto tavolare al di fuori di queste ipotesi se non viene rispettato questo termine il soggetto che pur era regolarmente proprietario con tutte le caratteristiche perde questa possibilità di agire nei confronti dei terzi e quindi ci rendiamo tutti conto come questo è un sistema che favorisce di più la circolazione giuridica dei traffici rispetto al sistema della trascrizione con la particolarità che mentre il sistema tedesco garantisce questa possibilità e quindi attribuisce immediatamente la pubblica fede il sistema tavolare italiano la garantisce attraverso la decadenza in cui incorre il proprietario nel non aver promosso l'azione in questi due termini e questo è estremamente importante perché pone il sistema austriaco e quello tavolare italiano al riparo da quelle accuse che spesso vengono fatte dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo a proposito di interferenza sproporzionata del diritto di proprietà perché appunto dà questo cuscinetto dei 60 giorni quindi mentre i sistemi torrents di immediate indifusability oppure anche il sistema tedesco potrebbero essere a rischio rispetto a questo aspetto nel nostro sistema con questo cuscinetto dei 60 giorni ovvero dei tre anni questo rischio è molto è molto diluito ho già accennato qualcosa sugli acquisti mortis causa posso solo dire che qui il modello di riferimento non è quello austriaco ma è quello tedesco perché in Austria diceva la ventilazione la cosiddetta ventilazione ereditaria che era un modello troppo differente rispetto al modello italiano e quindi il legislatore dell'epoca preferì optare per un sistema diverso un modello diverso e il modello diverso era l'herbshine tedesco e questa scelta al pari dell'altra si è dimostrata senz'altro lungimirante posto che l'herbshine è alla base dell'attuale certificato successore europeo di quel regolamento 650 2012 quindi anche su questo se possiamo dire leggellatura dell'epoca ci vede abbastanza bene un piccolo cenno molto veloce visti i tempi vorrei fare a proposito degli acquisti a titolo originario per dire che questi sono i sistemi pubblicitari forti come sicuramente è tanto il sistema germanico quanto quello austriaco devono per forza di cose cercare di ridurre al massimo l'operatività dell'usucapione per una ragione molto semplice perché l'usucapione mentre il sistema della trascrizione è un elemento di forza è il pilastro su cui si regge il sistema altrimenti bisognerebbe fare delle ricerche indietro all'infinito nei sistemi pubblicitari come il nostro è un elemento di debolezza perché determina un'incompletezza del libro allora anche qui i modelli a cui fare riferimento sono diversi il sistema tedesco nell'ottica di cui si era detto prima pone anche l'acquisto per usucapione sotto l'ombrello del principio dell'iscrizione quindi non determina automaticamente se l'acquisto a titolo originario del diritto ma determina solo la possibilità per chi ha posseduto per vari anni di poter iscrivere l'acquisto e in concreto nel sistema germanico di fatto vi è solo un usucapione secondo un tavola che serve solo per eliminare i rischi gli errori che si sono verificati all'interno del controllo di legalità di cui vi ho sommariamente detto prima il modello austriaco al pari di quello italiano invece ha optato per un altro meccanismo ha mantenuto fermo l'acquisto exeo d'automatico col decorso del tempo 30 anni in austria 20 anni in italia ma costringe chi ha acquistato per usucapione a descrivere prontamente il proprio acquisto perché altrimenti se colui che è formalmente proprietario ma che non lo è più perché altri ha usucapito vende il bene a un terzo acquirente di buona fede questo terzo acquirente di buona fede acquista immediatamente e quindi pone nel nulla questo acquisto a titolo originario quindi vedete che è una prospettiva radicalmente diversa rispetto al sistema di ascrizione ed è questa la ragione per cui nel nostro sistema nei territori in cui vige il sistema tavolare non opera l'usucapione decennale proprio perché è immediata un sistema come il nostro non tellerebbe la necessità di attendere dieci anni per arrivare al risultato allora saltando il più possibile allora questa l'introduzione degli acquisti a titolo originario è utile secondo me per far capire come anche nel sistema tavolare esistono i cosiddetti diritti extratavolari ossia diritti che esistono a prescindere dall'iscrizione sappiamo che tutti i sistemi pubblicitari hanno alcune pubblicità di natura costitutiva pensiamo all'ipoteca nel sistema della trascrizione altri di natura dichiarativa altre ancora forme di pubblicità sono la cosiddetta pubblicità notizia cioè una pubblicità che serve per rendere noti dei fatti ma la cui assenza eventualmente non determinerrebbe nessun bonus i vincoli la pubblicizzazione dei vincoli di uso civico come pure la pubblicizzazione dei diritti pubblici da questo punto di vista non vi è alcun dubbio da parte di tutti gli interpreti che appartiene a quest'ultima categoria quindi ha un'efficacia di mera pubblicità notizia non di pubblicità dichiarativa non di pubblicità costitutiva questo però non sta a significare che il ruolo del libro mondiario con riferimento ai beni pubblici con riferimento ai vincoli di uso civico non sia di di grande importanza e perché perché il sistema tavolare si può vantaggiare del fatto che è un sistema come ho detto prima su base reale ma non solo su base reale ma addirittura su base reale completa e in questo si può individuare un'ulteriore distinzione del sistema tavolare locale quello vigente qui in Trentino quindi provincia di Trento e Bolzano rispetto a quello austriaco e tale differenza va trovata nel fatto che già la legge 17 marzo 1897 valevole per la contea principesca del Tirolo prevedeva l'iscrizione all'interno dei registri immobiliari all'interno dei libri fondiari anche dei beni pubblici quindi mentre con riferimento la gran parte dei sistemi pubblicitari non si cura della pubblicizzazione dei beni pubblici perché sono considerati beni extra commercio già nel 1897 il Tirolo prevedeva l'iscrizione dei beni pubblici e in questo si differenzia tanto dalla Carinzia che quindi nel Tarvisano o nelle zone adesso del Friuli Venezia Giulia quanto i Ducati Salisburgo della Slesia quanto la principesca contea di Gorizia e Gradisca la Dalmazia e l'Istria anche con leggi successive prevedevano solo come facoltativa l'iscrizione dei beni pubblici invece qui in Tirolo abbiamo questo sistema e questo ci fa dire che il nostro sistema è un sistema pubblicitario a base reale completa per quanto riguarda attualmente l'unico aspetto che in qualche modo contraddice questa base reale completa sta nel fatto che vi sono talune partite iscritte ad enti territoriali che parlano genericamente di beni pubblici senza distinguere tra demanio e patrimonio indisponibile però questo si sta risolvendo attualmente stanno distinguendo all'interno delle iscrizioni di beni pubblici avere una partita quindi ci sarà l'enti territoriale con la partita beni demaniali disponibili e poi anche beni patrimoniali disponibili per quanto riguarda in concreto l'iscrizione dei beni di uso civico all'interno del sistema tavolare la normativa di riferimento è data dalla circolare 2 del 2008 del locale servizio dei libri fondiari che se ho tre minuti forse riesco a finire posso dire alvoro che dice che l'ASUC non potendo risultare titolare formale dei beni frazionali non può essere intestataria dei beni di uso civico e la frazione invece non potrebbe tavolarmente risultare proprietaria di beni liberi dal vincolo di uso civico avendo una capacità immobiliare limitata solo all'ambito dei beni di uso civico frazionale di sua aspettanza questo sta a significare che qualora per qualsiasi motivo si debba cancellare il vincolo di uso civico e il bene risulta intavolato alla frazione non si potrà provvedere alla cancellazione se non previa trasferimento a un altro ente territoriale che può essere il comune o un altro ente territoriale il luogo dove vengono contenute queste iscrizioni originariamente nella partita cartacea i beni di uso civico erano iscritti nel foglio a due esattamente come succede per le servitù attive quindi per i fondi dominanti successivamente con la informatizzazione del libro fondiario si è deciso di spostare questa riscrizione nel foglio C che è il cosiddetto foglio degli aggravi dove vi sono appunto le servitù passive e forse questa non è del tutto corretta anche perché ha determinato una certa confusione e fa quasi pensare che un vincolo di uso civico possa colpire solo parte così come succede con le servitù del bene anziché tutto cosa questa che sicuramente è sbagliata perché come non può esistere una particella parte patrimonio indisponibile così non può esistere una particella parte gravata e parte non gravata quindi verosimilmente sarebbe più corretto come dice da molto tempo il direttore del libro fondiario di Borgo dottor Castelli inserire l'iscrizione nel foglio B similmente a quanto accade per i cosiddetti patrimoni destinati ulteriore elemento che fa capire l'importanza del libro fondiario nella gestione dei beni di uso civico è data dalle procedure di reimpianto ripristine e completamento del libro fondiario alle quali si fa ricorso attraverso una procedura piuttosto complessa e con un'apposita commissione quando o è diventato tutto inservibile il libro maestro quindi non ci si può più appoggiare allora si instaura questa commissione nominata dalla Corte d'Appello a seguito di un particolare dito e si fa una nuova verifica che quindi consentirà di verificare che ci siano i titoli che determinano legittima la riscrizione a favore degli enti territoriali piuttosto che dei singoli proprietari quindi è evidente a mio parere come attraverso questi meccanismi l'accuratezza e la fidabilità dei dati ricavati dal libro raggiunga livelli del tutto impensabili rispetto a sistemi pubblicitari impostati su base personale sappiamo tutti che a seguito della cosiddetta meccanizzazione delle conservatorie della legge 52 85 sia ora possibile effettuare delle ricerche partendo dall'identificativo catastale quindi in qualche modo supplendo alla carenza originaria della base reale del registro però queste procedure che stanno a monte fanno invece capire come la base reale per di più la base reale completa di cui ho parlato prima siano effettivamente un qualche cosa di più da questo punto di vista un ulteriore elemento significativo sta nel controllo di legalità di cui ho parlato prima perché un eventuale atto dispositivo di un bene gravato di uso civico cadrebbe immediatamente in un divieto di pubblicità perché il conservatore del libro fondiario prima il giudice tavolare poi all'atto del controllo nel momento in cui verificasse la presenza di un uso civico immediatamente bloccherebbe perché non è solo un aspetto formale ma anche sostanziale parimenti se vi fosse la richiesta di un'iscrizione di un diritto di superficie o di una servitù prediale che sono gli unici diritti reali a favore dei terzi che possono essere intavolati tale domanda potrà essere accolta solo in presenza di un provvedimento di sospensione dell'uso civico e la cui presenza verrà verificata non solo dal notaio rogante ma anche dal conservatore e dal giudice tavolare mi scuso se ho fatto un po' di fretta ma spero di aver detto qualcosa di presto tutte relazioni molto interessanti tra l'altro mi sembra che la materia tavolare sia rimasta l'ultima o la penultima di competenza della regione Trentino Alto Adige perché per il resto le competenze si sono separate tra le due province e quindi anche questo contribuisce all'unità politica della regione che con riguardo invece poi all'ordinamento costituzionale si è differenziale adesso recentemente è stata comunque divisa per quanto riguarda quindi resta quindi alle due province quindi la regione è solo intestataria grazie a tutti e a domani grazie a tutti grazie a tutti